Siamo Elena e Giulia, le Creative Director e fondatrici di Art of Play e vi aspettiamo ovviamente. L'idea della mostra Art of Play nasce per celebrare l'importanza del gioco nella vita quotidiana e nella storia ed è per tutti, quindi per grandi ma anche per piccini. Quindi abbiamo voluto celebrare il gioco con una vera e propria mostra che esplora sia la sua storia ma anche l'evoluzione, una mostra immersiva di 16 installazioni interattive e molto creative. Grazie a tutti! Celebriamo il cinquantesimo anniversario di Hello Kitty, quindi con un'intera area dedicata al suo mondo, quindi ci sono quattro installazioni, dalla sua stanza da letto, alla stanza delle sue origini, quindi con un rimando al Giappone, a un karaoke segreto dove ci si potrà anche divertire a ritmo di musica, fino poi ad arrivare all'imperdibile Hello Kitty Caffè.